Niente, la dirigenza Sheffield è totalmente in bambola, perché ha deciso di non rinnovare il contratto a cinque pilastri della formazione. Prima è proprio Foderengham, poi c'è Baldock che ritornerà in Crescia, e non c'è fan soldo, c'è Max Lowe, ma soprattutto c'è Basham, e anche Norwood. Questi cinque saluteranno domenica Abramo Alain, la gente che li ha amati e supportati, la dirigenza non crede più in loro, Foderengham che secondo me avrebbe potuto, avrebbe dovuto restare ancora, perché lo ha fatto vedere che è un buon portiere, sicuramente meglio di Gurbic. Basham è una bandiera di questa squadra, e Abramo Alain gli tributerà un buato assurdante, perché Basham è l'irriducibile, Basham ha fatto la cavalcata dalla Ligue 1 alla Premier League, è restato in Championship, e l'ha riportato insieme a Daniel Ahmed Ozzic e i compagni, ovviamente giocando meno, perché l'età comunque avanza per tutti, ma... E poi, però, la partita col Fulham, persa, e quell'infortunio, grave. Quello purtroppo è stato falcidiato da dagli infortuni, Baldock... Baldock ha perso la titolarità al posto di Bogle, si può capire, Norwood è comunque imprescindibile in mezzo al campo, un'ottima riserva ad Art Blaster, e Norwood ha fatto il titolare per anni, lì in mezzo in mediana, e anche per lui Bromo Lane alzerà i decibel, sono, secondo me, per fodere, ma per tutti e cinque, ma soprattutto per fodere i campasciam e Norwood. E dopo il saluto di Billy Sharp, di Enda Stevens e di Marco Connell, l'estate scorsa, vediamo anche questi cinque, ovviamente aggiungendoci in Gindiaie e... 2-0 dell'Etz intanto, sul Norwich e Berga. Qui 3-0, Gindiaie e Berga, sono stati importanti per il Salenitz in Premier l'anno scorso. E non voglio pensare che appunto si c'è da Hammer per fare i soldi, ma a quanto pare è questa l'idea, per ricostruire lo Sheffield Day di Championship. Ma se Levi Cardini, meno male Almeno lui, MacBurnie, dovrebbe rimanere. Osborne ha rinnovato l'estate scorsa. Eh ragazzi, questa... Queste delle cinque perdite a zero, l'ennesima brutta notizia della stagione. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto. Sono sconvolto. Sono sconvolto veramente. Datecelo qualche bella notizia, che cazzo. E vabbè, bella.